Il mondo dopo mi diceva che il costume deve passare a due, quindi a sole. Esatto, quindi non era vero che non succedeva niente, succedevano due cose rapidissime. Una che cambiava il costume dal bianco al grigio e l'altra che diceva ma se il grigio fa lo trovare a bianco. E allora come si doveva risolvere. Allora posso questo qua si è perduto? Allora, guardate, se anzit a usare questi due se noi usassimo questo qua che è il se altrimenti. Cosa fa il se altrimenti? Verifica la prima condizione che passa al prossimo numero. Ma perché? Allora, altrimenti passa al prossimo numero troppo semplice. Ok, guarda come succede così. E vediamo se funziona. Allora, così è funzionato. E così funziona. Per cui va benissimo quello che lui mi ha detto. Io pensavo che non avessi a niente invece va dentro. Perché? Guardate. Bravissimo. Allora, il primo problema è quello che adesso succederà. E' bene. Guardate, quello che adesso succede è che se noi andiamo avanti, iniziando il gioco, e mettiamo sopra, adesso ci toglie anche le tracce di rovi. Per evitare che ci toglie anche le tracce di rovi, possiamo accendere questa condizione. E a questo punto, a risolvere il barco, e anche se ci sono le tracce di rovi, possiamo accendere questa condizione. Allora, il barco, e poi, possiamo accendere questa condizione. Bravissima. E' scampo a me. Ah, beh, beh, bravo sì, mi chiedate. Si chiama Alessandro, per la volta. Del istituto comprensivo e principe di Piemonte. Non so me che voglio mai pubblicizzare, non solo Alessandro, ma l'istituto comprensivo che l'ha formato. Principe di Piemonte. E' principe di Piemonte. Grazie.